L'abbiamo strutturato in modo da poter dare un'idea quanto più possibile ampia del potenziale della tecnica e senza entrare eccessivamente in dettagli operativi in modo che sia approcciabile, comprensibile da qualsiasi tipo di utente, anche perché la dermoriflessologia come campo di interesse e campo di utilizzo è molto ampia, va dalla bioenergetica, per cui proprio dall'energia vitale classica fino alla metafisica, metapsichica. Un inizio di approccio anche tecnico c'è, i circuiti primari sono stati dettagliati un po' di più, poi il resto è molto divulgativo, è un libro ancora attuale al 100%.